Cosa c'entra la musica con la matematica? Perché un cantante come Bob Dylan, premio Nobel per la letteratura, quindi qualche cosa c'entrerà con la letteratura, parla di matematica o anche di matematica nella sua autobiografia. La cosa che a voi magari sorprende è invece qualcosa che non dovrebbe sorprendervi, perché i rapporti fra la matematica e la musica sono cose che risalgono a molto tempo fa. In realtà circa, perché le date non sono precise, circa 2500 anni fa. Anzitutto volevo fare una domanda io, c'è qualcuno di voi che suona musica? Tu sembri non tanto sicura, sei sicura di suonare? Che cosa suoni tu? E sei l'unica musicista? Tu anche, sei poco convinta di esserlo. Tu cosa suoni? Tu strimpelli la chitarra, tu hai elzato la mano? Io sono il pianoforte. Pianoforte, tu sei... Strimpelli la chitarra. Strimpelli è diverso da suonare, sì? Mentre invece voi suonate, mi piacerebbe sentirvi suonare naturalmente, che non strimpellate. Ma in realtà, allora, quello che cerco di raccontarvi oggi è il legame che c'è fra la matematica e la musica. La musica è uno dei modi che ci possono permettere di arrivare a capire meglio la matematica. Vi racconto un aneddoto, anzitutto, che ha a che fare con gli strumenti a corda. Non tanto la chitarra, la quale ovviamente suona quello che permette lo strumento di suonare, ma per esempio tu hai detto il violoncello che suonavi. Ecco, uno strumento come il violoncello o il violino non è fatto di corde, di corde tese. Se voi prendete una corda e la pizzicate, sentite un suono. Pitagora, che amava, era un filosofo, era un matematico, un pensatore dell'antichità, che amava fare esperimenti, loro lo facevano con nervi di bue, perché quelle erano le corde degli strumenti di una volta, si è accorto che se voi prendete una corda e la pizzicate e sentite un suono, quando questa corda la dimezzate e la pizzicate, sentite un suono. Ma qual è il legame fra il suono della corda intera e il suono della corda metà? Lo chiediamo alla nostra violoncellista. Un'ottava, cosa significa questo? Significa in realtà che il suono che voi sentite è lo stesso, esattamente la stessa nota, per esempio un do e anche quell'altro un do, però l'altezza di questo suono è diversa e la differenza è quella che dicevi tu, cioè è la differenza di un'ottava. Pitagora ha scoperto in questo modo che i numeri, cioè il numero 2 o il numero 2 e 1, cioè il rapporto 2 a 1, permette di descrivere, un rapporto numerico, permette di descrivere quello che si chiama un rapporto invece armonico, musicale, che è il rapporto dell'ottava. Però Pitagora non si è limitato a questo, a fare un esperimento di dividere in due una corda. Ha preso una corda, per esempio, e l'ha divisa in tre parti questa volta. Quindi in questo caso il rapporto non è più 2 a 1, ma è 2 terzi, oppure 3 a 2, a seconda di se uno prende la cosa più grande o guarda dal punto di vista della corda più piccola. In questo caso, se voi prendete la corda intera e la suonate, sentite una nota, e quando prendete invece 2 terzi, semplicemente, o 3 mezzi, di una corda, che cosa sentite? Sentite un suono diverso. Non è più la stessa nota di prima, che semplicemente ad altezze diverse, è un suono diverso. Però è riconoscibile a coloro che hanno fatto un po' di studi musicali, o a coloro che hanno un orecchio, in questo caso probabilmente assoluto. Tu sai anche questo a che cosa corrisponde, sai tutto, ti sei preparata prima. Qual è il rapporto, sentiamo, attenta che ti arriva il... Ah, no, 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 il rapporto 3 a 2, che cosa corrisponde? Così come 2 a 1, un rapporto di 2 a 1 o 1 a 2, corrisponde a una differenza di un'ottava, che cosa corrisponde? Una corda divisa in tre parti e poi suonata soltanto sui due terzi o sui tre mezzi? Ah, questo Pitagora invece l'ha sentito, adesso purtroppo non abbiamo le corde sotto mano, e si è accorto Pitagora che anche in quel caso questo rapporto numerico 3 su 2 corrisponde a un rapporto armonico molto importante, che in musica si chiama la quinta, un rapporto che c'è per esempio fra un do e il sol consecutivo, oppure tra un fa e il do consecutivo. E allora la cosa comincia a diventare interessante, non è più soltanto un caso che un numero corrisponda a un rapporto, un rapporto numerico corrisponda a un rapporto armonico, ma già due ce ne sono. Pitagora continua a fare esperimenti, divide questa volta la corda in 4, no, e poi ne prende tre parti, cioè questa volta il rapporto diventa 4 terzi e si accorge che anche in quel caso 4 terzi, che è un rapporto numerico, corrisponde a un rapporto armonico e questa volta è, come potete immaginarvi, notate che le cose discendono, quindi si è partite dall'ottava, la quinta, la cosa più da immaginare è che sia la quarta, cioè per esempio il rapporto che c'è fra do e fa, oppure tra sol e il do successivo. Ora questo diventa interessante perché Pitagora scopre che i numeri più ovvi della successione numerica 1, 2, 3, 4, tutti questi numeri corrispondono a dei rapporti musicali molto interessanti, i primi 2, 2 su 1 all'ottava, i secondi 2, 3 su 2 alla quinta, i terzi 2, cioè 4 su 3 alla quarta e questa è una scoperta fondamentale, Pitagora comincia a dire ma allora questo significa che i numeri possono effettivamente descrivere la musica, è strano perché sappiamo che i numeri in genere descrivono la natura, per esempio le lunghezze delle corde e così via, i rapporti che ci sono fra corde suddivise in parti, ma dall'altra parte descrivono anche le cose che hanno a che fare con l'umanesimo, la musica che si potrebbe immaginare essere lontanissima dalla matematica, anche se poi Bob Dylan ci ha ricordato nella sua autobiografia che non è così lontana. E da qui partì quello che si chiama il credo pitagorico, Pitagora cominciò a dire, ovviamente aveva soltanto questi esempi ma poi lui ne fece anche alcuni altri, si accorse che effettivamente i numeri servivano sempre per descrivere la natura da una parte e la musica dall'altra. L'idea di Pitagora è allora che tutto è numero, o meglio tutto è numero razionale, tutto si può descrivere attraverso rapporti di numeri interi e questi sono gli esempi fondamentali. Poi Pitagora cominciò a guardare al cielo, si accorse che c'erano delle stelle, quello se ne era accorto anche qualcun altro prima naturalmente, non soltanto i filosofi, ma ci sono alcuni pianeti che girano attorno, non si sa, dipende, loro avrebbero detto alla terra e oggi diremmo attorno al sole e così via e anche i rapporti fra questi pianeti effettivamente si possono descrivere attraverso rapporti di numeri e quindi Pitagora dice ma non soltanto la musica e la natura ma addirittura anche l'astronomia e tutte queste cose vengono unificate dalla matematica. E questa è la prima meditazione, l'aritmetica, cioè i numeri interi servono a descrivere la musica in particolare ma la natura in generale. Uno, due, tre e quattro, se voi li sommate quanto viene? Brava! Allora dieci diventa il numero magico dei Pitagorici, se voi scrivete, vado un momento alla lavagna, se voi scrivete questi numeri, li rappresentate in forma geometrica, queste uno, queste due, queste tre e queste quattro, vedete che vi viene fuori una cosa che sembra un alberello di Natale e questa è quella che Pitagora chiamava la tetractis perché ha a che fare ovviamente col numero quattro, è una specie di figura a quattro righe e la somma di queste quattro righe è dieci, questo diventa il simbolo dei Pitagorici, se voi foste stati a Crotone 2500 anni fa vi sareste iscritti alla confraternita e i Pitagorici vi avrebbero dato lo spillino, lo stemma con questa cosa e dieci diventa il numero magico di Pitagora. Volevo solo farvi vedere una piccola operazione che è interessante perché Pitagora la fa questa operazione e dice guardate qui abbiamo la nostra ottava, no? Cioè un Do per esempio che possiamo chiamare Do 1, il primo, no? E poi un altro Do che possiamo chiamare Do 2, il secondo, no? E questa ottava viene divisa in due parti, qui c'è il Sol per esempio, no? E vi ho detto prima che questo intervallo fra il Do e il Sol è quello che si chiama una quinta, no? E questo intervallo invece fra il Sol e il Do è quello che si chiama una quarta, che è lo stesso intervallo che c'è fra Do e il Fa comunque, no? Allora cosa succede? Abbiamo trovato dei numeri che corrispondono a questi intervalli, qui per esempio tre mezzi, qui invece quattro terzi e questo intervallo invece ha un numero che era quello che abbiamo detto due su uno o due, no? Se volete. Ora domanda, attenzione perché questa è una domanda trick, no? Qui abbiamo un intervallo e qui ci sono due piccoli intervalli che sommati fra di loro danno un'ottava, cioè una quinta più una quarta sommati danno un'ottava. Ma per quanto riguarda i numeri, cosa dobbiamo fare a questi numeri, tre mezzi e quattro terzi, per far sì che messi insieme in qualche modo diano come risultato due? Chi ha detto? Provo, moltiplicarli, perché se voi moltiplicate ovviamente i tre si semplificano, quattro e due diventano due, eccetera. Allora Pettagora scopre una cosa interessante che quando si addizionano degli intervalli musicali si moltiplicano i numeri corrispondenti, non si fa la stessa operazione, uno potrebbe immaginare che si devono sommare le frazioni, invece no, si moltiplicano. E questo credo voi fate il liceo scientifico quindi vi hanno spiegato che quando c'è qualche cosa che voi prendete, un prodotto e lo trasformate in una somma o una somma e lo trasformate in un prodotto, ci sono due operazioni complicate che si chiamano, non so se, che cosa? Le potenze, gli esponenziali e dall'altra parte invece non i radicali ma i logaritmi in realtà. E quindi nascosto sotto questa piccola osservazione di Pitagora ci sono non soltanto le proprietà dei numeri interi ma addirittura ci sono le proprietà di cose che poi saranno più complicate nella storia della matematica e che lui non sapeva bene ma le aveva solo intuite, che sono appunto logaritmi e esponenziali. Ma a questo proposito sentiamo prima un pezzettino ancora di musica perché vi volevo fare vedere un'altra cosa interessante. Bensì l'altra parte di Bach, il secondo pezzo, scusate ma questo era per rallegrare il vostro animo, così sentiamo un po' di musica. Un momento di silenzio, nel frattempo voi meditate a queste alte idee che vi ho appena detto perché quello che volevo cercare di farvi capire è che adesso abbiamo capito che effettivamente se vogliamo dividere qualche cosa tipo l'ottava, quello che dobbiamo fare è fare prodotti o il contrario dei prodotti che sono le radici. Sentiamo questa musica che arriva da lontana, chiunque abbia suonato il pianoforte la conosce bene. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Questo era il primo preludio del primo volume del clavicembalo bentemperato di Bach. Ora il motivo per cui ve l'ho fatto sentire è perché anzitutto tutti coloro che hanno suonato bene o male sono cascati su questo pezzettino molto semplice, sono solo degli accordi però suonati in arpeggio che fanno questo suono molto accattivante, è però il titolo di quell'opera di Bach, il clavicembalo bentemperato. Cosa significa temperare uno strumento? Significa che ad un certo punto molto nella storia ma molto dopo la storia che vi stavo raccontando prima di Pitagora cioè secoli e millenni dopo la gente cominciò a chiedersi se avendo l'ottava che era quella che avevamo prima per esempio tra un do e l'altro do e sapendo che l'ottava si divide in sette note però alcune di queste note sono distanti soltanto mezzo tono altre invece sono distanti un tono e ad un certo punto se voi vi ricordate come è fatto la struttura del pianoforte uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, no? Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, ok, no? Il pianoforte è fatto così, qui ha dei tasti neri in questo modo, no? Vedete qui c'è mezzo tono tra il do, il do diesis, poi c'è un altro mezzo tono, di nuovo mezzo tono, qui c'è un mezzo tono tra due note consecutive, anche qui ci sarà poi un mezzo tono tra il si e il do e se contate quante sono le note dentro l'ottava sono ovviamente dodici, no? Ora, i musicisti del seicento e del settecento si posero il problema di dire ma come si fa a dividere un'ottava che corrisponde notate al numero due in dodici parti uguali? Ora attenzione perché noi sappiamo che quando si divide l'ottava in dodici parti uguali questo deve essere qualche cosa che sommato insieme dodici volte, credo che questo stia accadendo, ma accade ma anche stava per cadere, no? Ecco, dicevo sommati dodici volte devono dare due, ma il numero che corrisponde a quelli che si chiamano i semitoni, cioè è qualche cosa che stiamo cercando, attenzione, abbiamo un'incognita e qui entra non soltanto più l'aritmetica ma l'algebra addirittura, stiamo passando a una seconda parte della matematica, stiamo cercando un qualche cosa, x, che corrisponde al semitono e vogliamo che sia qualcosa che corrisponda a un intervallo che sommato dodici volte dia come risultato due. Ma vi ricordate cosa abbiamo detto prima con Pitagora? Allora, quando noi sommiamo gli intervalli musicali, cosa succede ai numeri che corrispondono a quegli intervalli? Vengono moltiplicati, quindi questo numero che corrisponde a un intervallo che viene sommato dodici volte, cosa diventa? Deve essere moltiplicato dodici volte, no? Come si fa a moltiplicare dodici volte x? x alla dodicesima e questo quanto deve essere uguale? Deve essere il numero che corrisponde all'ottava che vogliamo dividere, no? E deve essere uguale a due. Ora guardate questa equazione. Qui siamo ormai nell'algebra, no? Perché abbiamo un'incognita, un'incognita che poi deve soddisfare a certe condizioni e non è difficile risolvere questa equazione se uno fa il liceo scientifico, no? E quindi adesso voi ditemi un po' qual è la soluzione di questa equazione. x alla dodicesima deve essere uguale a due. Qual è il numero? Che elevato a dodici dà come risultato due. Tu stai ridendo perché secondo me lo sai e dici voglio vedere se lo sanno anche gli altri. Ma io lo chiedo a te invece. La radice dodicesima di due. Adesso la scrivo qua perché cercherò di farvi vedere la soluzione. Qui naturalmente Pitagora avrebbe detto ma cosa state dicendo queste cose? Non esistono naturalmente, no? Perché per Pitagora tutto era numero, no? Tutto era numero razionale. E quando qui fate la radice dodicesima di due, questo è x, no? Che non è uguale ovviamente alla radice quadrata di dodici, no? È una cosa molto diversa perché la radice quadrata di dodici è un numero che moltiplicato per se stesso dà come risultato dodici. Qui la radice dodicesima di due è un numero che moltiplicato dodici volte per se stesso dà come risultato invece due, no? E questa è la soluzione del problema del temperamento. E questo ovviamente richiede anzitutto di conoscere qualcosa come le equazioni, le soluzioni delle equazioni, cioè appunto quello che si chiama algebra e non più soltanto aritmetica, ma soprattutto richiede di introdurre numeri di questo genere. Radice dodicesima di due è un numero che è, dico una parola ma che credo tutti conosciate, no? Che è irrazionale. Cioè non c'è nessun rapporto di numeri interi, cioè un numero intero diviso un altro numero intero che sia uguale a questo numero qua. E' un numero irrazionale. E questo è il motivo per cui Pitagora non l'avrebbe amato e non gli sarebbe piaciuto perché ovviamente va fuori del seminato dell'aritmetica. E anzi questa è stata poi la crisi dei pitagorici. I pitagorici si accorsero che c'erano effettivamente dei numeri che non si potevano rappresentare attraverso dei numeri razionali. Uno, ve lo faccio vedere molto facilmente, è questo qua. Questo è un quadrato. Se voi prendete la diagonale del quadrato, questo l'avrete visto a scuola ma credo già nelle medie, no? Prima di arrivare al liceo, no? Sapete che la diagonale del quadrato e il lato del quadrato sono incommensurabili. Non c'è nessuna unità di misura che sta un numero di volte intero dentro il lato e dentro la diagonale. Ce n'è qualcuna che sta dentro il lato ma loro non misura esattamente la diagonale. Ce ne sono altre che stanno dentro la diagonale e a loro non misurano il lato. Ma non ce n'è una che misuri tutti e due, no? Numeri irrazionali. E la musica stranamente è uno dei modi o dei luoghi in cui questi numeri irrazionali effettivamente vengono fuori e affiorano. Adesso invece passiamo a un'altra parte della matematica. Voi direte quante ce ne sono finché non suona la campanella, no? Però le grandi parti della matematica sono quattro. Due erano le parti della matematica antica, greca, ed erano l'aritmetica e la geometria, di cui non abbiamo ancora parlato, di cui parleremo tra un momento. E due sono le grandi parti della matematica moderna, che sono l'algebra e... Ancora non ci siete arrivati lì magari, ma si chiama l'analisi matematica o il calcolo infinitesimale. Prima di arrivare all'analisi, passiamo alla geometria e sentiamo il pezzo che invece è andato prima e che deve venire adesso. Ma comunque non importa, abbiamo sentito musica, adesso vi dico che cosa vi avrei voluto far sentire. Anzitutto risentiamo mentalmente, non attraverso la regia, risentiamo mentalmente il preludio del clavicembalo ben temperato. Quella è musica barocca, no? È tipica musica appunto che faceva Bach, ma tante altre gente, no? Al suo periodo. E la musica barocca usa degli strumenti che sono, certamente, strumenti aritmetici come quelli di Pitagoro che abbiamo visto prima, perché quelli sono insiti dentro la struttura stessa della musica, quando si prendono appunto le corde e le si dividono. Ma usa, per comporre invece i suoi brani, non soltanto per fare dei suoni, usa la geometria. In una maniera abbastanza strana, no? Che vi illustro anzitutto in un modo semplice, attraverso le lettere dell'alfabeto. Se noi prendiamo questa lettera, che tutti conoscete, no? La lettera B, e pensiamo di rifletterla in vari modi, no? Anzitutto possiamo rifletterla in questo modo, no? La prendiamo e la giriamo, no? Dall'altra parte, no? La riflettiamo verticalmente. E cosa succede alla lettera B quando la si riflette verticalmente? Beh, diventa ancora un'altra lettera, no? Però è diversa, no? È la lettera D. Se invece prendiamo questa lettera B e la riflettiamo orizzontalmente, no? Ancora c'è una lettera dell'alfabeto, che però questa volta è la P. E poi cosa possiamo fare? Beh, possiamo o riflettere questa di là, oppure questa in giù, no? E che cosa viene? Quasi miracolosamente viene lo stesso risultato, no? Ed è la Q. Ora, questi sono quattro modi diversi di far vedere una stessa figura, no? Le linee che ho fatto sono sempre le stesse, ma a seconda di come le disponiamo sulla lavagna, ovviamente corrispondono a quattro lettere differenti, ok? In musica si fa esattamente la stessa cosa, solo che invece di farla nella musica barocca, e nel pezzo che avrei voluto farvi sentire, che era invece musica dodecafonica, e questa è la cosa straordinaria, che musiche così diverse, la musica barocca è, come avete sentito prima di Bach, no? Molto formale, no? Barocca, come dice il titolo. La musica dodecafonica, anche senza sentirla, la conoscete tutti, perché in genere nei film dell'orrore, no? Le colonne sonore sono questa musica, no? Che ha, sembra a prima vista, poca struttura dentro, no? Sono più che altro suoni lancinanti. Ebbene, sia la musica barocca che la musica dodecafonica usano esattamente queste trasformazioni geometriche. Prendono uno spartito e lo suonano come scritto. Questo si chiama motoretto, no? Cioè lo si suona semplicemente al diritto, no? Come è fatto. Ma questo spartito si può prendere e si può invertire in questi quattro modi. E allora in un caso quello diventa il modo inverso, nell'altro caso diventa il modo retrogrado, e nell'ultimo caso diventa il modo inverso-retrogrado o retrogrado-inverso, perché vedete che sia riflettere la D che la P porta allo stesso risultato. E queste sono trasformazioni per l'appunto geometrico. Ho usato più volte la parola riflessione, e la parola riflessione è tipica per l'appunto, no? Di trasformazioni che hanno a che fare con la geometria. Farlo con la musica è possibile? Farlo con le parole è un po' complicato. Con questa lettera funziona, ma se voi prendete qualunque altra lettera in genere, quando la rivoltate, no? Provate a pensare per esempio a una A, e beh, vi accorgete che questa A, quando la girate dall'altra parte, non viene quasi mai, no? Questo gioco viene soltanto con alcune lettere. Meno che mai viene con le parole. Per esempio, quello che corrisponde in musica, al modo retrogrado, cioè a suonare una musica, non come scritta da sinistra a destra, ma a suonarla al contrario, da destra a sinistra, no? Tornando indietro, come i gamberi, e infatti spesso queste cose nella musica venivano chiamate cancrizzanti, no? Come il cancer, il cancro, no? Cioè il gambero che torna all'indietro, no? Queste cose funzionano in musica, spesso, non sempre ovviamente. Bisogna avere qualche cosa che è scritta in maniera tale che funzioni in una direzione o nell'altra. Ma nella lingua quasi mai funziona. Sapete farmi degli esempi, probabilmente l'avrete già visti, no? Nella vostra vita, di quelli che si chiamano i palindromi, di parole che si scrivono in una direzione e si possono leggere all'indietro nella stessa direzione. Uno è molto semplice, per esempio, è A. Certo, se c'è una lettera sola, no? Cioè si legge in una direzione, no? Oppure nel contrario. Ma una parola che si possa leggere in due direzioni, non molto distante da questa, per esempio, ups, un nome, no? Anna, no? Ecco. Qualcosa di più eccitante? Un po' più lungo? Non è così semplice vedere. Quindi vedete che il processo mentale del musicista che scrive canoni o fughe, no? Nella maniera che avevo detto prima, in modo che si possano leggere in due modi diversi, no? È analogo a quello del letterato che scrive una parola e dice ah, vediamo un po' se questa parola la posso leggere al contrario. Per esempio, anilina. Oppure, è più lungo, no? Credo, non sono sicuro, ma vediamo, ai lati d'Italia. Questo è solo con l'apostrofo perché altrimenti non funziona. E così via, no? Cioè a volte si riescono a fare dei pezzi, delle frasi che si leggono in due direzioni. La più bella che io conosca è quella che è stata fatta in inglese, ma voi siete scientifici, no? Quindi, naturalmente, liceo scientifico lo conoscete. Ed è la descrizione di un presidente degli Stati Uniti, non quelli che conoscete voi, no? Soprattutto l'ultimo, no? Un presidente che decise di far costruire il canale di Panama, no? E qualcuno lo descrisse in questo modo. A man, un uomo, a plan, il progetto, no? Di che cosa? Del canale, a canal, Panama. E se voi vedete, no? Questa frase, no? A man, a plan, a canal, Panama, no? È una frase che ha un perfetto senso. Dice, appunto, no? Che c'è un uomo che ha avuto un progetto per costruire un canale e questo canale è il canale di Panama e fatto all'indietro non si legge esattamente nello stesso modo. Ecco, questi sono i procedimenti geometrici che ci sono dentro la letteratura, però in letteratura è molto difficile farlo. Vedete? Sono piccole frasi che a volte succedono. Questo, il modo più semplice è quando uno a Panama, no? a cercare di vedere che cosa salta fuori leggendola all'indietro e quindi a man viene fuori automaticamente, no? E ci si accorge che quello vuol dire qualche cosa. Poi a pi e allora, no? Si cerca di andare all'indietro ma non è facile. C'è uno scrittore che vi consiglio di leggere, molto divertente, no? Che si chiama Perek che ha fatto giochi di questo genere, cioè tentativi di scrivere anche un racconto, per esempio, che si possa leggere in maniera palindromica. È molto complicato, in genere funzionano con le poesie o con i versi, no? Ma non... Credo che uno di... Primo Levi, se ben ricordo, è questo, ma poi voi potete controllarlo. I topi non avevano, lo conoscete, no? Nipoti. E però, vedete, no? Sono sempre cose, sì, divertenti, ma non troppo eccitanti. Invece in musica si riescono a fare delle cose molto più straordinarie andando avanti e indietro, ma non soltanto, perché ricordatevi che le trasformazioni geometriche che abbiamo visto sono quattro. Quindi non c'è soltanto il fatto di andare avanti e indietro e leggere uno spartito al contrario, ma si può anche prendere lo spartito e girarlo sotto sopra. Ora, con la lingua non succede praticamente mai che si possa leggere una frase scritta così e poi si giri. A volte ci sono cose che si chiamano ambigrammi, ma devono essere scritte in maniera distorta in modo da poter essere interpretati in due modi. Invece in musica si riesce a farlo, non soltanto appunto leggendo lo spartito avanti e indietro, ma anche girando. E poi si può fare il contrario, si può prendere lo spartito e metterlo contro luce e leggerlo per diritto o per girato, che corrispondono per l'appunto a queste cose. Quindi vedete come nella musica ci siano delle cose estremamente inventive, ma soprattutto cose che anzitutto fanno cadere per terra la lavagna. E adesso farò una... Ecco qua. Vedete che i matematici devono essere tutto fare, cercare di capire come funziona anche la propria lavagna. E dicevo, in musica si riescono a fare cose estremamente sofisticate, ma la cosa interessante è che sotto ci sia della matematica. Allora, finora abbiamo parlato di aritmetica, il fatto che i rapporti fra i numeri permettano di descrivere rapporti armonici e che quindi si possano dare... Io adesso ho fatto vedere soltanto degli esempi, abbiamo dato dei numeri a il do iniziale, uno, al do finale, due, al sol e al fa, quattro terzi e tre mezzi, ma volendo si possono dare dei numeri a tutte le note della scala musicale, no? E questo, no? E questo è il modo in cui la aritmetica entra nella musica. Abbiamo visto la geometria, la aritmetica entra nella geometria, la geometria entra nella musica attraverso queste trasformazioni che si possono fare sugli spartiti leggendoli avanti, indietro, riflessi contro luce e così via. Poi entra attraverso il temperamento, questa è l'algebra, si è trattato di risolvere un'equazione x alla dodicesima uguale a due e si ottiene questa radice dodicesima di due che tra l'altro è quello che poi gli accordatori, per esempio, di pianoforti devono fare. Quando uno accorda uno strumento deve riuscire a riprodurre queste varie radici dodicesime di due poi di due radici dodicesime al quadrato e così via per tutta la scala musicale. E l'ultima cosa invece di cui vogliamo parlare è qualcosa che ha a che fare con quello che voi conoscete benissimo e che sono i modi in cui invece i suoni vengono tradotti o registrati. Tutti voi avete visto, usato dei cd per esempio dove c'è il registrato della musica, avete le chiavette usb, avete i file mp3 e così via. E questi file o questi cd registrano diciamo così della musica. Una volta la musica non si registrava in quel modo. Si registrava attraverso, li avrete visti nei musei probabilmente in casa dei vostri genitori, questi dischi di vinile che venivano registrati in una maniera che si chiama analogica. In che senso? Beh, c'era uno strumento che vibrava, un ago che vibrava, si faceva girare questo disco di cera mentre si producevano dei suoni e le vibrazioni che i suoni producono perché il suono è quello, è l'aria che vibra attraverso movimenti che vengono fatti in questo caso dalla bocca o dagli strumenti musicali, queste vibrazioni venivano semplicemente registrate sul disco di cera che poi veniva stampato su un disco di vinile e poi c'era uno strumento che rifaceva la stessa cosa, si faceva passare un ago su questi solchi e si riproduceva il suono. Questo era un trucco praticamente, il suono c'era e veniva semplicemente registrato esattamente com'era. Oggi invece, come voi sapete benissimo, anzi forse non sapevate che c'era questo modo di registrazione, oggi tutto è qual è l'aggettivo digitale, cosa significa digitale? che si usa il dito invece del lago si mette il dito per registrarlo, no, digit in latino voleva dire digit ma in realtà sta ad indicare le cifre, digitale significa numerico, quindi se voi andaste a vedere cosa c'è scritto sui file mp3, in genere non avete la possibilità di leggere il file, potete soltanto riprodurlo attraverso un lettore, ma se voi poteste aprire questo file si può fare, basta andare in rete e trovarne qualcuno per esempio o poteste guardare quello che c'è dentro un cd cosa trovereste? Solo dei numeri, allora come è possibile rappresentare una musica a volte anche complessa come quella che abbiamo sentito di orchestra o la voce umana eccetera attraverso dei numeri? Beh qui ci vuole qualche cosa di molto sofisticato una parte della matematica molto avanzata che si chiama appunto analisi matematica o calcolo infinitesimale e come entra questo calcolo infinitesimale nella registrazione dei suoni anzitutto avrete visto sugli schermi dei computer a volte ci sono delle forme che fanno vedere qual è il suono la forma del suono che si sta sentendo in quel momento e però avete notato che quei suoni spesso sono cose estremamente complicate ora come si fa a tradurre tutte queste forme così complicate in numeri? Beh bisogna ridurle a qualcosa di più semplice che si possa descrivere attraverso dei numeri quali? Interi siamo di nuovo ritornati a Pitagora perché i numeri sono sempre quelli ma quali sono questi numeri? Beh anzitutto c'è una forma molto semplice che è questa che tutti conoscete ed è una sinusoide alla fine di questa lezione naturalmente la lavagna sarà inservibile per i prossimi conferenzieri ma comunque ha fatto il suo uso questa è una sinusoide è la forma che ha un seno per esempio o un coseno dal punto di vista matematico che appartengono alla trigonometria quindi anche questo entra trigonometria è una parte diciamo così dell'analisi questo corrisponde a un suono ma è un suono particolare molto semplice io me lo porto sempre dietro ed è il suono che fa uno strumento di questo genere che non è un tipico strumento napoletano ma è quello che si chiama un diapason purtroppo qui non abbiamo modo di farlo risuonare ma quando questo diapason si fa suonare vibra e fa quello che si chiama un suono puro appunto che si descrive attraverso una sinusoide qual è il legame fra i diapason cioè le sinusoidi e i suoni complessi cioè i suoni reali che noi sentiamo nella nostra vita beh qui c'è un passaggio molto grande non vedete bisogna passare al foglio successivo e questo passaggio l'ha fatto un signore che si chiama Fourier un famoso matematico dell'ottocento che è famoso per tanti motivi ad esempio quello che ha trovato l'equazione del calore e così via che forse avete studiato poi nei corsi di fisica ma questo signor Fourier ha inventato una cosa che si chiama analisi di Fourier è riuscito a capire che qualunque funzione molto complessa in particolare quelle che descrivono suoni come quelli che noi sentiamo si può in realtà scrivere come somma di tanti funzioni semplici di tanti suoni semplici come quelli del diapason e la cosa naturalmente non è proprio semplice perché se voi prendete questo suono e beh questo suono sì sì magari si può rappresentare per esempio si potrebbe fare qualcosa di questo genere questa è una sinusoide che sì certo approssima a quel suono ma molto alla lontana l'idea di Fourier è che certo se ne può mettere uno, due, tre eccetera ma se uno ne mette infiniti allora riesce effettivamente sommando delle funzioni sinusoidali via via più piccole o più lunghe a rappresentare qualunque suono questo in realtà qualche anno dopo Fourier ci fu un signore che si chiama Helmholtz un tedesco che mise insieme un'orchestra di diapason in cui ciascuno strumentista aveva solo un diapason e non si suonavano brani musicali ma si suonava un unico suono però la cosa interessante è che per esempio poteva essere il suono emesso da un cantante o da una cantante che faceva una nota e queste note sono complesse appunto sono funzioni molto variegate come mai? beh perché noi abbiamo tante corde vocali naturalmente la cosa diventa complicata quando uno strumento suona una nota in realtà il fatto che questo strumento sia fatto di qualche cosa di concreto come il legno per esempio o la cassa armonica eccetera si chiama appunto cassa armonica non a caso fa degli armonici e gli armonici sono appunto queste componenti ma in questi suoni ce ne sono infiniti in realtà come si fa a tradurre una di queste cose dentro un cd o dentro un mp3 ovviamente l'infinito non ci può stare e questo lo si deve fare per ogni suono e poi è la successione dei suoni che diventa un brano musicale allora quello che si fa è questo anzitutto si dice la sinusoide non è difficile da rappresentare numericamente perché quali sono le tre caratteristiche che ha una sinusoide questo è il punto di partenza c'è anzitutto questo si deve dire qual è la lunghezza quando è che devo far partire questa sinusoide questo è quello che si chiama la fase poi c'è quindi parte di qui e questo è un numero poi ci sono due cose che hanno a che fare con la sinusoide sono la lunghezza qui la lunghezza d'onda cosiddetta e l'ampiezza o altezza quindi sono tre i numeri uno il punto di partenza la fase poi l'altezza e l'ampiezza tre numeri allora per ciascuna sinusoide c'è bisogno di tre numeri che possiamo chiamare così F fase ampiezza e lunghezza F L tre numeri ma questo per una sinusoide ogni suono è fatto di infinite sinusoidi e allora cosa in teoria come dovrebbe essere la rappresentazione numerica di un singolo suono una serie infinita di terne in cui queste terne sono tre numeri interi che rappresentano la fase l'ampiezza e la lunghezza però ce ne sono infinite è chiaro che nessun cd o nessun file potrebbe contenere infinite terne e allora che cosa si fa? se ne fa un numero finito ad un certo punto si taglia e si taglia cosa vuol dire? vuol dire che l'approssimazione è un'approssimazione ma non è perfetta più si taglia e peggio viene la cosa più si allunga questa lista e si fanno approssimazioni migliori e più il suono viene meglio questo è il motivo per cui i file che voi sentite meglio sono quelli più pesanti perché quando avete un file mp3 che rappresenta anche la stessa cosa succede in maniera un po' più complicata con i film per esempio dove non c'è solo il sonoro ma ci sono anche le immagini eccetera come mai potete scaricare non su torrent è proibito ma comunque scaricare o comprare lo stesso film o la stessa canzone su dei file per esempio mp3 o mp4 che però hanno un peso diciamo così molto diverso e quando poi li trasmettete per esempio per mail o sui social pesano molto di più a volte e molto meno perché quelli che pesano meno sono ovviamente più grossolani quando guardate il film è più sgranato per esempio quando sentite la musica non sentite bene gli alti e i bassi ma questa è l'idea e allora ciascun suono viene rappresentato con una serie finita questa volta di terne che comunque messe insieme sono semplicemente un insieme di numeri e poi ci sono tanti suoni uno dietro l'altro e quindi ci sono questi insiemi di terne ripetute così e questo è il modo in cui la matematica permette di rappresentare suoni ma poi come ho detto non soltanto i suoni anche le immagini e così via e questa è ormai la fine perché siamo arrivati io ho un orologio là davanti che mi segna lo scorso del tempo lo sapevo anche senza l'orologio che passava ma adesso so che è passato più o meno il periodo in cui dovevamo fare questa lezione ma in conclusione l'idea è questa la matematica è così generale è uno strumento così potente che io ho scelto la musica oggi ma volendo avrei potuto scegliere per esempio la letteratura avrei potuto farvi esempi di queste quattro grandi parti della matematica legate alla letteratura avrei potuto fare avevo proposto di farla ma mi hanno detto questo è un po' complicato per esempio il legame tra il cibo e la matematica voi direte cosa c'entra il cibo e ho chiesto di portare qui una tavola con sopra vari ingredienti culinari e vedere come gli oggetti che si usano in cucina e che noi ci mangiamo senza mai pensare qual è la loro bellezza matematica per esempio il cavolfiore che magari non a tutti piace che lascia un terribile odore quando uno lo cucina però il cavolfiore quando è andato a casa provate a guardarlo è fatto in uno strano modo con tanti tanti punti appuntiti ma se voi cercate di staccarne uno vi accorgete che quello che voi avete di quel cavolfiore in realtà è un piccolo cavolfiore che sembra un cavolfiore grande solo che è fatto un po' più piccolo e questo piccolo cavolfiore potete anche lì andare a staccargli in un altro pezzo e lì ce n'è un altro più piccolo e così via ovviamente nella natura le cose delle cose via prima o poi si fermano ma il cavolfiore è un esempio di una struttura frattale queste strutture ci sono anche nella musica per esempio se voi prendete una sonata di Mozart quella in genere è fatta di Mozart o di chiunque altro per esempio ma comunque i pre-romantici o i romantici sono dei buoni esempi questa è fatta di due pezzi che hanno una loro struttura partono in una certa tonalità arrivano in un'altra e poi ritornano a quella di partenza ma se voi andate all'interno di queste due parti vi accorgete che anche lì c'è una struttura che si divide nello stesso modo e dentro di nuovo spesso ci sono tre quattro livelli quindi anche lì si sarebbe potuto parlare per esempio della geometria frattale che è una cosa un po' più complicata che in genere non si studia a scuola ma è una parte della matematica moderna e così via qual è il succo non possiamo dire come Pitagora che tutto è numero perché quello è un po' limitato tra l'altro i numeri a cui pensava lui l'abbiamo già detto sono numeri razionali per esempio non è vero che tutto è numero quando si fa il buon temperamento o il temperamento equabile perché ci sono le radici dodicesime di due che sono irrazionali ma se noi estendiamo questo motto di Pitagora invece di dire tutto è numero diciamo tutto è matematica beh lì allora ci avviciniamo molto a quello che è la realtà non nel senso che la realtà sia costruita con la matematica ma nel senso che attraverso la matematica riusciamo a descriverla in maniere a volte sorprendenti come in questo caso dove infiniti oggetti come questi molto semplici sinusoidi riescono però a descrivere un suono come quello del cantante o quello del professore che vi ha fatto questa lezione o anche il vostro che invece siene stati gentilmente in silenzio senza rumoreggiare ma che adesso potreste invece usare se volete fare domande o se semplicemente volete fischiare o applaudire grazie allora nessuno vuole fare una domanda? eccola se ci dici come ti chiami se non mi spiego Emma Papi io adesso mi siedo però come volevano che facessi fin dagli inizi ma come ho dimenticato di fare da metà in poi le volevo chiedere che musica ascoltava e se quando ascolta la musica pensa sempre alla musica come appunto dei rapporti e degli intervalli matematici o anche se magari pensa se sono un pervertito oppure no in altre parole questa è la domanda no in realtà è una bella domanda perché queste cose servono a capire meglio quello che succede quindi è vero che nella musica non c'è solo quello quindi se uno si fermasse soltanto agli aspetti matematici beh certamente perderebbe l'essenza la musica non è fatta per illustrare le proprietà dei numeri anche se magari i matematici vorrebbero che così fosse e per esempio Bach era uno che amava moltissimo i numeri era un numerologo amava molto il numero 14 per quale motivo? perché se voi prendete A, B, C, D eccetera l'alfabeto e associate alla A1 alla B2 alla C3 e così via e alla H8 naturalmente e sommate questa volta più o meno come faceva Pitagora 1 più 2 più 3 più 8 viene fuori 14 e lui dice questo è il mio numero e allora lui per esempio scrisse 14 canoni sulle prime otto note del basso delle variazioni di Goldberg oppure ci sono dei pezzi che sono divisi per l'appunto in 14 parti eccetera entrò in un'associazione di musicisti matematici e per entrare bisognava portare dei pezzi e lui c'è entrato dunque centrato nel 1747 e come mai 1747 perché 1747 c'ha ovviamente una quattro e poi due sette quindi due volte 14 e si è fatto rappresentare in un quadro che bisognava appunto dare all'epoca non c'erano le fotografie quindi si portava il proprio quadro con un vestito con 14 bottoni e in mano c'aveva un canone enigmatico cioè un canone in cui c'era la musica scritta i canoni sono musiche che si ripetono a varie altezze e a vari intervalli e c'era solo il tema del canone si chiamava per questo enigmatico bisognava risolverlo dice trovate voi dove è che si può partire e dove bisogna mettere le cose ci sono centinaia di soluzioni ma la prima è stata trovata un secolo dopo perché naturalmente era così nascosta oggi con il computer si trovano al volo e così via quindi ci sono dei legami appunto che rendono non dico più piacevole ma ti fanno capire meglio quello che sta dietro ai brani musicali poi ovviamente bisogna fruirli per quello che sono cioè la musica stessa cioè le sensazioni che ti danno se un brano è costruito usando la matematica più sofisticata per esempio un musicista che si chiama Xenakis ha fatto questo scriveva in maniera matematica poi uno poi uno li sente però e si mette i capelli e dice vabbè allora non è quello che importa però quando tu sai che queste cose sono state usate ti danno di più questa era la prima cosa quella musica che sento io io ho 66 anni e ne ho sentita tanta di musica nel 1970 quando voi non c'eravate ancora eravate solo esseri potenziali sareste venuti in seguito sono andato ad esempio all'isola di White in cui ho visto Bob Dylan che naturalmente oggi non è venuto ma c'era lui c'erano tantissimi altri che poi sono morti come tutti prima o poi facciamo Jim Morrison per esempio ho visto Jimi Hendrix eccetera quindi per tanti anni ho sentito musica che si chiamerebbe pop o rock poi mi sono dedicato al jazz ad esempio io poi personalmente ho suonato per tanti anni senza grossi risultati il pianoforte quindi musica classica mi piace sentire la musica contemporanea che spesso anche lì fa venire mettere le mani nei capelli ho incontrato vari musicisti qui a Roma per esempio c'è Nicola Piovani che è un premio Oscar per la colonna sonora del film di Benigni La vita è bella abbiamo fatto un'opera insieme nel senso che lui l'ha scritta e io gli ho dato piccoli suggerimenti che si chiama Epta e come mai Epta perché è legata al numero 7 sono 7 brani suonati da 7 strumenti e ciascuno è ispirato a qualche cosa che ha a che fare con il numero 7 alcune cose matematiche altre più legate alla vita tipo le 7 porte di Teben e così via ho intervistato grossi musicisti tipo Pierre Boulez che è stato uno dei più grandi direttori d'orchestra nello scorso secolo Stockhausen per esempio che è uno dei grandi compositori di musica elettronica o Philip Glass per esempio che è un famoso compositore minimalista eccetera la musica è molto variegata naturalmente è un'immagine del mondo quindi secondo me bisogna essere aperti a tutte le sue branche non branchie e sentire un po' di tutto ma naturalmente poi ci sono cose che ci muovono di più e cose che ci muovono di me a me Bach per esempio muove molto quindi altre domande? va bene se non ci vuoi fare una domanda? io sono Lisa veramente non sei mai stata a New York o è solo un vezzo quello di dire non sono mai stata a New York no purtroppo l'ho comprata prima di stare a New York ci sono stata però mi piace comunque la maglietta la metto ti piace non dire che sei stata no la volevo correggere però non l'ho fatta in tempo ah giusto puoi mettere esatto ma qual è allora il suo numero preferito? dunque il mio numero preferito è 1729 e c'è un motivo perché c'è una storia che adesso vi racconto poi se voi non volete potete spegnere il collegamento e andiamo a letto tardi altrimenti perché qui la cosa si farà tardi ma 1729 è un numero straordinario anche perché tutti i numeri sono straordinari come mai? beh perché supponete che non sia vero che tutti i numeri sono straordinari numeri interi per esempio supponete che non sia vero facciamo una dimostrazione per assurdo allora se ci sono dei numeri che non sono straordinari li possiamo andare a mettere i numeri sono tutti ordinati no così quindi magari questo è il primo che non è straordinario e però pensateci il primo numero che non è straordinario e quello è straordinario e quindi e questa è una contraddizione quindi non è possibile che ci siano dei numeri non straordinari sono tutti straordinari il problema è capirlo cioè capire come mai ciascun numero straordinario il 1729 è un numero famoso che ha a che fare con un matematico che si chiama Ramanujan un matematico indiano qualcuno vedo che tu sei stato in India o sei parente di Ramanujan conosci la storia c'è uscito recentemente un film interessante che si chiama L'uomo che vide l'infinito e questo matematico aveva questa capacità di vedere proprietà per esempio di questi numeri lui era un indiano andò in Inghilterra pessima mossa perché uno può andare a New York ma in Inghilterra con la nebbia con il freddo eccetera si ammalò poi tornò poi in India e morì poco dopo e questo vi suggerisce di non andare mai in Inghilterra anche perché tra l'altro ormai è fuori dall'Unione Europea diventa complicato ma mentre era malato a letto febbricitante andò a trovarlo un suo collega e arrivò e gli disse guarda sono arrivato con un taxi che però mi dispiace non aveva nessun numero interessante aveva un numero 1729 e Ramaluzio gli fece oh non è interessante con la febbre naturalmente che magari aiuta per vedere queste cose e gli disse questo è il più piccolo numero che si può scrivere in due modi diversi come somma di due cubi cose tipiche appunto da chi ha la febbre ora quali sono le due somme di cubi che danno come risultato 1729 come possiamo fare per arrivarci beh possiamo cercare di penetrare brevemente nella mente di Ramanujan qui c'è 1729 ma dentro lì c'è sicuramente un cubo ovvio che è 1000 perché 1000 è 10x10x10 quindi proviamo a vedere se per caso 1000 più 729 che sarebbe 10 al cubo più 729 cosa potrebbe essere? uno può immaginarlo dice beh non è troppo lontano da 1000 questo è 10 al cubo magari 9 al cubo e facciamo a memoria 9x9 fa 81 81x9 fa e uno dice sarà quello sarà 729 quindi questa è la prima scomposizione due cubi che danno come risultato questo e poi una seconda come si fa a averne una seconda? c'è un modo ovvio che qui dentro c'è un altro cubo ovvio ed è uno perché uno ovviamente è il cubo di uno uno per uno per uno cosa rimane però? rimane 1728 questo è un po' più complicato ma se uno guarda e gli americani per esempio gli anglosassoni lo sanno perché voi sapete che gli anglosassoni sono pervertiti in tanti modi uno dei quali è non usare il sistema metrico decimale e hanno a volte questi piedi che sono divisi in 11 pollici già addirittura l'idea di dividere il piede con i pollici forse sono i pollici del piede non lo sono ma comunque e poiché sono 12 i pollici dentro un piede in genere i matematici i fisici sanno che 12 al cubo sanno il quadrato e il cubo e 12 al cubo è 728 quindi qui c'è 12 al cubo e 1 al cubo e questo è quello che probabilmente Ramanujan vide subito che 1729 si può scrivere in due modi diversi perché c'è questo e questo che sono ovvi come somma di due cose che sia il più piccolo se veramente aveva quei poteri che il film e le sue biografie gli danno magari l'ha visto veramente lui diceva che vedeva queste formule sulla lingua della dea Kali che è una dea hindù che in genere viene rappresentata in questa maniera truculenta con una lingua lunga che le scende fuori dalla bocca e lui guardavano su questa lingua e vedeva non so se succede anche con la Madonna eccetera qui a Roma avete tante naturalmente chiese potete provare a andare a vedere se magari uscite con qualche formula nuova più probabilmente o l'aveva già fatto prima magari aveva già pensato a cose di questo genere oppure ha tirato a caso e gli ha andato bene se gli andava male nessuno l'avrebbe ripetuta e invece gli ha andato bene tutti la ripetono che è un po' quello che succede con gli astrologi i quali fanno tante previsioni e poi l'anno dopo ritorno e dice io l'avevo previsto quello sì ma avevi previsto altre cento cose che non si sono verificate poi qualcuna certo si verifica e così via quindi questa è la risposta a qual è il numero preferito ma potrebbero essere tanti altri io ho scritto un libro che si chiama il museo dei numeri in cui non ci sono tutti perché l'editore non voleva che li mettersi tutti volevo fare un capitolo per ogni numero ma mi ha detto no bisogna fare come coincidino tagliare ad un certo punto e fare un'approssimazione però ci sono tante storie di questo genere quindi grazie a voi allora ringraziamo i ragazzi del Pacinotti Archimede il liceo scientifico e soprattutto giustamente poi avendo un titolo io non avevo capito che si chiamava Archimede altrimenti avremmo naturalmente ah posso fare allora a questo punto scusa eh sapete che Archimede è colui che ha inventato l'oggetto più importante che sia mai stato inventato e qual è questo oggetto? beh ci sono i solidi voi li conoscete i cosiddetti solidi platonici ce ne sono cinque si chiamano platonici perché Platone ne ha parlato in un suo famoso dialogo che si chiama il timeo e sono ecco voi ormai dormite ma non è mica finita la cosa quali sono i cinque solidi platonici? i solidi regolari cubo va bene cubo tetraedro tetraedro dotegaedro sì penta qualcosa l'ottaedro il pentadro c'è il pentagono di cui sono fatte le facce del dodecaedro l'icosaedro l'icosaedro e l'ottaedro l'esaedro sarebbe il cubo è quello che ha sei facce quindi quelle cinque cose una volta che Platone scopre questi solidi in realtà sono stati scoperti già prima dai pitagorici eccetera cosa rimane a fare a uno come Archimede che arriva dopo e dice mi devo inventare qualche cos'altra e lui si inventò i solidi Archimedei per l'appunto che si ottengono come per esempio uno prende il cubo o il tetraedro gli taglia le punte in maniera regolare e vede che cosa succede beh quando uno prende l'icosaedro e gli taglia le punte succede una cosa straordinaria perché anzitutto l'icosaedro è fatto in modo che ci sono in ogni vertice cinque triangoli che arrivano quindi uno taglia la punta e rimane un pentagono e poi però quello che rimane fuori sono degli esagoni e quindi ci sono dodici pentagoni che corrispondono ai dodici vertici dell'icosaedro venti esagoni che corrispondono alle facce dell'icosaedro messe insieme e questo è l'oggetto più importante che sia mai stato inventato voi direte ma come mai non l'abbiamo mai visto perché non guardate intorno per esempio in natura ci sono delle molecole che si chiamano Buckminster Fullerene C60 60 atomi di carbonio disposti a forma per l'appunto di pentagoni ed esagoni e voi direte e questo lo rende l'oggetto più importante che sia mai stato scoperto no ma se voi colorate questi esagoni e questi pentagoni di bianco e di nero ottenete una forma che è quasi sferica e che si chiama pallone da calcio Archimede ha inventato il pallone da calcio e l'ha inventato anche per quel motivo perché Platone ci racconta in un dialogo che una volta si giocava con palle dodecaedriche fatte con gli stracci eccetera ma si giocava senza le scarpette da calcio si giocava a piedi nudi e il dodecaedro ha dei vertici molto appuntiti quindi faceva male come fa esattamente così ho fatto apposta per dire ai e invece con il passaggio dal dodecaedro al licosaedro con le punte tagliate è stato un piccolo passo per un matematico ma un passo dal gigante se non per l'umanità perlomeno per gli sportivi allora grazie ancora per Giorgio Di Freddi e il suo racconto così affascinante grazie grazie a presto a presto a presto Grazie.